Ciao a tutti ragazzi oggi parliamo di acidi e basi secondo la teoria di Bronsted e Lowry. Bronsted e Lowry forniscono una diversa interpretazione rispetto alla teoria di Arrhenius che ricordiamo recitava nel seguente modo Arrhenius definiva acida quella sostanza che in soluzione acquosa liberava ioni H+, mentre definiva basica o base quella sostanza che in soluzione acquosa liberava ioni OH-. Bene il presupposto da cui partono Bronsted e Lowry è il seguente ed è anche abbastanza intuitivo. Nel momento in cui l'acido perde un protone quindi un H+, abbiamo a che fare con uno ione una particella estremamente piccola ma che presenta un campo elettrico quindi genera un campo elettrico particolarmente elevato ed ha un grosso potere polarizzante. Questo ci conduce a dire che il protone in questo caso l'H+, non può rimanere in alcun modo isolato nell'ambiente ma deve necessariamente andarsi a legare con un'altra sostanza. Qual è questa sostanza? Quindi Bronsted e Lowry definiscono base quella specie chimica che è in grado di accettare uno o più protoni mentre definiscono acida quella sostanza che è in grado di fornire uno o più protoni. C'è da dire che l'aspetto importante è questo che le proprietà acide di una sostanza si manifestano esclusivamente se abbiamo una sostanza che è in grado di addizionare ioni H+, mentre anche in questo caso si definisce base quella sostanza che quindi manifesta le sue proprietà solamente se abbiamo in soluzione una molecola che riesce a liberare uno o più ioni H+. Per cui Bronsted e Lowry non parlano di acidi e basi separatamente ma considerano il corso concetto di acido e base come dei sistemi coniugati. Bene adesso vediamo attraverso un esempio di capire meglio il discorso. E' chiaro che la base cioè la sostanza che è in grado di accettare protoni deve possedere almeno un doppietto libero. Quindi andiamo a riprendere l'acido cloridrico anche se la maggior parte dei testi utilizza l'acido acetico come esempio. Bene quindi l'acido cloridrico perde un protone H+, che abbiamo detto non può rimanere isolato ma deve andare a legarsi con qualche altra sostanza. in questo contesto l'acqua funge da base perché presenta dei doppietti disponibili e quindi va a coordinare un idrogeno formando lo ione idronico e quindi diventando H3 o più. Anche se poi vedremo che nell'andare a risolvere i problemi del dph e poi alla fine per una questione di comodità andiamo a utilizzare H+, anche se in realtà più correttamente dovremmo parlare di H3 o più. Quindi H3 o più più cl- qual è il sistema acido basico? Il sistema è il seguente quindi l'acido cloridrico è l'acido che riesce quindi a liberare in questo caso un protone. L'acqua funge da base perché è la sostanza che va a addizionare il protone. L'H3 o più che cosa risulta? E risulta essere in questo caso l'acido coniugato mentre il cl- risulta essere la base coniugata. Ora vediamo di capire meglio il discorso che può lasciare un attimino perplessi quindi coniugato. Il sistema che si viene a creare è acido base coniugata base acido coniugato. Le coppie coniugate differiscono per uno o più protoni. Vediamo di capire che significa acido coniugato e base coniugata. Andiamo e siccome trattasi di un equilibrio andiamo a scrivere la reazione in senso inverso e cioè andiamo a scrivere H3 o più più cl- ora in questo caso delle due sostanze qual è quella che è in grado di fornire lo ione H più? E' lo ione idronio e quindi viene visto come la sostanza acida. La sostanza che è in grado di poter accettare i protoni in questo caso è il clore quindi viene vista come base. Pio HCl. Pertanto abbiamo l'acido e e quale sarà la sua base coniugata? Sarà l'acqua quindi diventa base coniugata. Cioè andiamo a rivedere l'esatto inverso. Il cloro quindi che ha assunto il protone e in questo caso diventa l'acido coniugato. Quindi vedete il sistema è un sistema acido basico acido base non isolato così come proponeva Rhenius ma coniugato né più né meno quello che avviene nelle reazioni redox. Facciamo un altro esempio per comprendere ancora meglio il concetto di acido e base coniugata. Consideriamo l'ammoniaca. L'ammoniaca la scriviamo qui a questa struttura quindi un doppietto disponibile. NH3 è una base estremamente debole e in soluzione acquosa è più propensa l'ammoniaca ad accettare un protone che non l'acqua. poi vedremo che l'acqua ha un comportamento un fotoro cioè si può comportare sia da acido che da base ma la vedremo in una lezione apposita. Quindi che cosa accade? Che l'acqua facciamo la molecola quindi l'acqua perde un protone. Questo protone da chi viene accettato così come abbiamo visto per l'H3O+, viene accettato dall'ammoniaca andando a generare l'ione ammoniaca e quindi andremo a scrivere NH4+. In questo caso l'acqua avendo perso un protone diventerà H2O+, OH+. Allora in questo caso come andiamo a definire il sistema? Quindi questa base l'ammoniaca perché accetta il protone, l'acido e l'acqua in quanto lo va a prendere questo protone e quindi parliamo di base e acido coniugato perché coniugato perché abbiamo visto se noi andiamo a ribaltare l'equilibrio l'unica è lo ione ammonio in grado di rifornire questo ione H+, e lo ione e OH-, quindi il gruppo ossidrile diventerà la base coniugata. Quindi parliamo di un sistema acido e base. Bene, quindi questo volevo sottolineare questo aspetto anche se poi in realtà dicevo prima nei calcoli del pH andremo a utilizzare indifferentemente H+, e OH-, anche se in realtà dovremmo scrivere più correttamente H3O+. Torno a sottolineare che le proprietà acide o basiche si manifestano soltanto se c'è una sostanza che può accettare o liberare ione H+. Se per esempio io prendo un acido e lo sciolgo in un solvente, questo solvente non ha alcuna capacità di poter accettare protoni, l'acido quindi non si manifesterà come tale e quindi rimarrà indifferente nell'equilibrio chimico che in questo caso andiamo a studiare. Bene, io ho terminato la lezione, la prossima volta andremo a studiare la teoria di Lewis che è quella poi un po' più completa, anche se dobbiamo dire che poi la teoria che noi utilizziamo ai nostri scopi è quella di Bronsted e Lory. Se vi è piaciuta la lezione iscrivetevi al mio canale, schiacciate un like e un saluto alla prossima lezione. Grazie.